Un intervento importante di rigenerazione urbana su un'area a ridosso del centro storico, l'ex Caserma Rossi si trasformerà in un grande parco urbano, in un parcheggio pubblico, con alcune strutture dei Vigili del Fuoco e del Demanio che verranno realizzate. La progettazione adesso la farà il Demanio, nell'immediato però abbiamo ritenuto opportuno utilizzare subito, abbattendo il muro e riqualificando il piazzale all'interno della caserma, per trasformare un parcheggio necessario in questi prossimi anni, prima dei lavori su tutta l'area della Caserma Rossi, a supporto della zona del centro storico, del parco del Castello e della Questura. Questo tipo di intervento rientra in una strategia di realizzazione di parcheggi sulla cinghia intorno al centro storico per cercare di ovviare ad un problema che evidentemente alimenta il dibattito cittadino in questi mesi perché l'Aquila è ritornata a vivere, gli aquilani e i turisti stanno assaltando in questi mesi il centro storico della città, dell'Aquila tanti professionisti e residenti sono rientrati all'interno delle mura, è necessario quindi realizzare dei parcheggi non enormi ma sufficientemente grandi e sufficientemente distribuiti intorno a tutta la cinta murale dell'Aquila per andare incontro alle esigenze della città del futuro. Sarà previsto anche lì un servizio bus navetta rapido per portare gli utenti del parcheggio alla Fontana Luminosa. I bus navetta elettrici sono oggettivamente comodi per dare un senso a tutti questi parcheggi che stiamo realizzando in quell'area della città dell'Aquila. I bus navettrici sono oggettivamente con la città dell'Aquila. I bus navettrici sono oggettivamente con la città dell'Aquila.